Vostra eminenza, cari ospiti, caro Enzo, cara famiglia Benigni, credo di dover iniziare molto semplicemente con il fare le mie congratulazioni per un risultato davvero fenomenale, 70 anni di tecnologia di altissima qualità, probabilmente la più alta qualità nel mondo. Magari vi starete chiedendo che cosa ci fa qui oggi il Presidente dell'Armenia e vi risponderò con una quindicina di motivi per cui è una buona idea che io sia qui, ma è una cosa che potrei fare, ma non vi preoccupate, non mi dilungherò così tanto. Comunque la ragione numero uno è che Enzo Benigni è un mio carissimo amico e lo siamo da molto tempo amici e quindi anche l'amicizia è una cosa che va celebrata. Non ha nulla a che fare con la politica, con la Presidenza, il fatto che io sia Presidente. Siamo diventati amici oltre 26-27 anni fa, quando ancora non ero neanche un politico o comunque ero alle prime armi e mi è sempre piaciuto essere amico di Enzo all'inizio, nel corso di questa amicizia e sicuramente continuerò ad amare questa amicizia anche domani. Sono qui perché Elettronica è un'azienda eccezionale e concilia, combina tre delle cose che preferisco, ovvero la famiglia Benigni, nella persona di Enzo ma non solo. Ancora c'è Leonardo, una delle più grandi aziende al mondo e sono qui anche i leader di quest'altra azienda e poi c'è un terzo partner, un'altra grandiosa azienda che è Tales. Siete tre grandi, non è facile essere dei grandi nella vita e lo so anche dalla mia esperienza politica. Credo che mantenere queste tre grandi aziende, queste famiglie che rappresentano queste aziende, per 70 anni o comunque molti anni è un grande risultato e farlo in armonia è un grande risultato e riuscire a continuare a farlo essendo leader del mercato è un altro eccezionale obiettivo. Ero qui a Roma invitato dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, quindi ero qui in una visita ufficiale, è stata una visita davvero piacevole, ho avuto il privilegio di discutere a lungo con il Presidente, con il Primo Ministro, con il Presidente del Senato, della Camera Bassa, del Parlamento, con altri colleghi e poi sono scomparso da Roma per andare a Venezia per un paio di giorni e sono ritornato per fare una visita ufficiale in Vaticano, ho incontrato il Santo Padre, il Segretario di Stato e altre cariche delle autorità religiose. E non sono qui anche oggi, questa è un'altra ragione che mi ha spinto a rimanere a Roma, c'è anche un'altra ragione però relativa al fatto, al claim, una storia fatta di futuro. Non potevo non essere qui quando si parla di futuro, perché è una cosa che mi affascina profondamente, mi affascina come scienziato, mi affascina come fisico. La discussione sul futuro è sicuramente legata a molte cose, è legata a Dio, è legata agli esseri umani, è legata anche alle nostre attività nel campo della scienza e della tecnologia. Come ex fisico vorrei condurvi per mano in un viaggio molto breve che risale a cento anni fa. Cento anni fa la fisica era allo sbaraglio, i fisici non riuscivano a spiegare molte delle cose che venivano scoperte, soprattutto quando si parlava di particelle elementari. Perché? Perché esercitavano idee e principi che si rifacevano alla fisica classica newtoniana, ma le cose cambiano quando la scala è più piccola, quando si parla di particelle elementari. E quindi, come succede di solito, c'era moltissima confusione, c'era anche una grossa instabilità, ma poi ci sono state grandi menti, persone come Paul Derark, Schrödinger, Richard Feynman e molti altri che hanno creato quella che oggi conosciamo come fisica dei quanti e che ha cominciato a cambiare il nostro mondo, ha cominciato a cambiarlo in maniera drammatica il nostro mondo. E naturalmente l'ambiente era quello, l'atmosfera era quella del post bellico, dopo la seconda guerra mondiale. C'erano le condizioni giuste, c'erano tutte le superpotenze che erano pronte ad investire, soprattutto in quelle tecnologie che potevano, scusate, attività che potevano creare nuove tecnologie. E all'improvviso ci siamo trovati in un momento in cui c'era una grande interconnessione, interconnessione che andava alla velocità della luce. È normale adesso per noi avere una videoconferenza con l'Australia, ma tutto questo ha gradualmente cambiato il mondo. E nonostante tutto pensiamo al mondo in maniera classica. Non vediamo come è cambiato il mondo, perché come esseri umani non abbiamo una storia dell'evoluzione normale. Perché grazie all'innovazione creiamo nuove tecnologie, queste nuove tecnologie hanno un effetto su di noi, accelerano il nostro sviluppo e hanno un impatto enorme. Quindi l'innovazione, la scienza ha cambiato la nostra evoluzione. Adesso ci troviamo a vivere in un mondo e proviamo a descriverlo, questo mondo. È un mondo pieno di incertezza. Che cosa sta succedendo? Perché una pandemia dopo un'altra? Perché succedono un disastro dopo l'altro? Siamo molto preoccupati riguardo al futuro. E che cosa succederà in futuro? E non capiamo. Molte cose non sono le stesse, sono diverse anche nella nostra vita pubblica, nella nostra vita politica. Perché? Perché come cento anni fa, nella nostra vita sociale, nella nostra vita pubblica, continuiamo a pensare in maniera classica. Pensiamo al diritto internazionale in modo classico, alle istituzioni internazionali in modo classico. Ma nel frattempo il mondo è cambiato, le persone usano Facebook, non si vota più una volta ogni cinque anni. Ogni giorno si vota cinque volte quando si parla dei politici. La politica e l'intrattenimento è sempre stata una parte della vita di tutti i giorni. Pensiamo all'antica Roma, ai gladiatori e alla politica. Ma oggi l'intrattenimento è diventato una parte fondamentale della politica. E' vero anche il contrario. Molti intrattenitori infatti sono diventati politici. E questo ha creato grandi incertezze, grande imprevedibilità e quindi c'è molto populismo nel mondo. Il mondo sta cambiando e non è più il mondo classico come lo intendiamo noi. C'è stata una rivoluzione industriale, poi lo sviluppo, una seconda rivoluzione industriale, lo sviluppo, terza rivoluzione industriale. Siamo arrivati alla quarta rivoluzione industriale, se la vogliamo pensare nel modo classico. Ma invece no, stiamo attraversando un'evoluzione davvero rapida, la nostra evoluzione. Che significa una rivoluzione al giorno, rivoluzioni quotidiane. Viviamo già nel futuro e vogliamo predire il futuro mentre ci viviamo già nel futuro. Il Covid non è una ragione, non è la causa del cambiamento nelle nostre vite. È una conseguenza perché il mondo è cambiato. A cominciare dall'Armenia, ma anche in Bangladesh, ad esempio, tutti vanno a fare spese nei centri commerciali, non più nei piccoli negozi. Quindi è facilissimo per il Covid diffondersi. Viaggiamo tutti insieme, stipati negli aerei. Il primo caso è stato in Cina e il secondo è stato in Argentina, non in Mongolia, non negli stati confinanti con la Cina. E quindi quello che vorrei dire è che viviamo in un mondo nuovo, già viviamo nel futuro. E quel futuro cambia ogni giorno. Quel futuro, per essere precisi, per dire precisamente che cosa intendo quando dico che viviamo nel futuro e che stiamo entrando in un nuovo mondo, devo usare una definizione della fisica quantistica. Come è stato detto da Gianni Letta, facendo riferimento ad un famoso fisico italiano, ora si parla sempre e si tratta sempre di probabilità, perché abbiamo perso la determinazione classica. Viaggiare da un punto A a un punto B c'è una traccia da seguire. C'è no, piuttosto c'è una probabilità che la particella possa essere ovunque, non lungo una linea retta necessariamente. La stessa cosa succede con la nostra vita pubblica. I politici stanno diventando dei quanti, il mondo sta diventando parte della fisica quantistica e allora benvenuti nel mondo dei quanti. E sono davvero contento di poter condividere, anche con una breve introduzione come questa, in un luogo come questo, perché elettronica ha sempre guardato al futuro. Le vostre vendite sono nel futuro, le vostre idee sono nel futuro, siete una di quelle aziende. avanzate che hanno usato oggi la tecnologia del domani e hanno creato un mondo completamente diverso. Quindi, come ho detto, si può iniziare dal campo militare, ad esempio, ma poi la tecnologia diventa parte del nostro sviluppo civile. Il cambiamento non cambia solo la tecnologia, ma cambia noi, il modo in cui pensiamo, il modo in cui agiamo, il modo in cui intendiamo costruire il nostro futuro. Quindi, grazie per avermi invitato, grazie per avermi invitato a questo dialogo dibattito sul futuro. Quello che voglio dire è che voi ed io viviamo già tutti nel futuro. E quel futuro non è più un futuro classico. Non lo è la politica, non lo è la scienza, non lo sono i nostri comportamenti. Quindi, anche predire il futuro non deve essere più inteso nel senso classico del termine, ma secondo le definizioni della fisica quantistica. Congratulazioni. Grazie. 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 Grazie.